Eccolo qua, un altro cucciolotto. Amore mio, intanto le catene le vende il ferramenta, ti do questa notizia. Ma se tu apri un negozio e non entrano i clienti, il negozio resta aperto o fallisce? Amore mio, cucciolotto, e come si alimenta il business se tu non inviti i clienti nella struttura? Si alimenta da solo, i soldi sorgono dal terreno, così, o i lingotti d'oro cadono dalle travi del soffitto. Cioè tu non inviti i clienti e il business si alimenta da solo. Vabbè, ma tu sei fantastico. Cioè, veramente è così complicata questa cosa da capire. D'altro canto, e ti do un'altra notizia che probabilmente non sai, cucciolotto bello, Network vuol dire rete, non catena che la vende il ferramenta o piramide che la trovi in Egitto. Rete. Se tu non fai rete, come fai il business ad alimentarsi? Ti sei mai chiesto se l'azienda per la quale tu fai network marketing non guadagna? Come fa a farti guadagnare a te? Te li regala perché sei caruccio. Vedo dalla fotografia che sei molto carino, quindi te li regala perché dice ma quanto è bello questo ragazzo, ma sapete che c'è? Ma io non voglio guadagnare niente, glieli voglio regalare così. Ma sei veramente fantastico, tesoro bello. Il network marketing funziona così. Bisogna fare rete. D'altro canto, ha sempre funzionato così. Ma perché? Se porti l'amico in Vodafone e l'amico non si fa la sim, a te Vodafone ogni 100 giga te li regala? Se tu porti l'amico in Amazon e l'amico non si fa Amazon Prime, a te Amazon il buono da 30 euro te lo regala. E perché le aziende che fanno network marketing dovrebbero regalarti remunerazioni senza che tu faccia aumentare il loro volume d'affari? Con nuovi clienti o con i tuoi acquisti? Questo, questo è il network marketing, a far aumentare il volume d'affari di un'azienda affinché questa azienda possa remunerarti. Cucciolotto, altrimenti sai che succede, amore di zio suo? Succede che l'azienda non si può sostenere e scamma, come è successo con OneConnect, con OneCoin, con BitConnect e con tantissime altre, come a breve succederà con alcune altre piattaforme, le quali dicono non ti preoccupare, tu metti i soldi che poi guadagni senza fare niente e poi all'improvviso scammano e perdi tutto. Cucciolotto, questo è il network marketing, fare rete. Ti abbraccio forte, forte, forte perché tu sei uno... Ciao, vita mia!